Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e in questo video vorrei introdurre alcuni concetti chiave della psicoanalisi attraverso il racconto della storia di Anna O. Come sappiamo la psicoanalisi ha dato il via a un nuovo modo di concepire la psiche umana che ha avuto delle profonde conseguenze in tanti campi, nelle scienze sociali, nella psicologia, nella psichiatria ma anche nell'arte, nella letteratura, nella pittura, basta fare i nomi di Dalì o di Italo Svevo o di Joyce o di Proust, il flusso di coscienza e così via. E quindi è importante capire non solo come è nata ma che cos'è esattamente l'inconscio e che cosa si propone, e con gli obiettivi si propone la psicoanalisi. Questa lezione introduttiva sarà suddivisa in due parti. In una prima parte cercherò di spiegare cos'era l'isteria e quindi il caso di Anna, la nascita della psicoanalisi, l'importanza della psicoanalisi, perché la psicoanalisi, Freud amava appunto dire che si dice e si scrive psicoanalisi, non psicanalisi, perché la psicoanalisi rappresenta, secondo le parole del stesso Freud, una rivoluzione, una profonda rivoluzione nella concezione che l'uomo ha di se stesso, nella concezione della natura umana. In una seconda parte invece parlerò in modo un po' più specifico di quello che Freud e Breuer definirono metodo catartico e che Anna stessa definì talking cure, cura della parola, o spazzacamino, chimney sweep, in quanto era una terapia, quella messa a punto da Breuer e poi analizzata e esaminata da Freud e Breuer negli studi sull'isteria, che mirava a purificare in qualche modo, metodo catartico, catarsi, termine che Aristoteli usa nella poetica proprio per indicare l'attività di purificazione, e quindi di pulizia, un po' come lo spazzacamino pulisce il camino, così il metodo catartico serve per pulire le scorie della nostra attività inconscia, della nostra dinamica psichica. Bene, i protagonisti di questa storia sono tre, Joseph Breuer, Anna O, che in realtà si chiamava Berta Pappenheim, è Sigmund Freud, Breuer era un affermato psichiatra viennese, di origine ebraica, come del resto anche Berta e Sigmund, Breuer era un po' più anziano di Freud, aveva circa 14 anni in più di Freud, si conobbero, si stimavano, collaborarono nel caso di Anna, Freud era appena poco più grande di Anna, quando iniziò la terapia di Anna o Berta, Anna, ovviamente è un nome di comodo, per motivi di privacy, come si direbbe oggi, anche se non esisteva ancora il GDPR della comunità europea. Berta, dicevo, aveva 21 anni, Freud ne aveva 24 o 25, quando l'aveva in terapia Breuer, e fu paziente di Breuer, Freud non fu mai paziente di Freud, però Freud conosceva di seconda mano, perché Breuer gli raccontava l'evoluzione della terapia di Anna, della malattia di Anna. Come dicevo, la cura durò dal 1880 al 1882, e solo nel 1995 venne pubblicato, studi di ulisteria, quindi molto dopo, scritto in collaborazione da Freud e Breuer. C'è da dire che i due si conobbero nell'80 e che furono amici, collaborarono insieme, secondo le parole dello stesso Freud, tra i due c'era ammirazione, dipendenza e anche concorrenza. Bene, come dicevamo, nel 1995, 1895, vengono pubblicati gli studi sull'isteria, in qualche modo potrebbe essere considerato l'atto di nascita della psicoanalisi, secondo altri invece potrebbe essere collocata questa nascita con la pubblicazione nel 1899 dell'interpretazione dei sogni, ma si sa che insomma queste date di nascita sono in gran parte convenzionali. Questa è la copertina originale degli studi sull'isteria e questo è un link dove si esamina quest'opera. Bene, lo stesso Freud nelle sue conferenze sulla psicoanalisi tenuta negli Stati Uniti presso la Clerc University nel 1909 ebbe a dire se un merito l'aver dato vita la psicoanalisi il merito non è mio, è di Breuer. Come ho già detto, Anna O., cioè Berta Pappenheim, era una paziente di Breuer, l'ha presa in cura dopo la morte del padre di lei quando determinati sintomi che potevano essere riferiti alla patologia dell'isteria cominciarono a manifestarsi nel comportamento di Anna e adottò sul suggerimento di Freud quello che poi passerà alla storia come metodo catartico, anche se qui le cose sono un po' complicate perché insomma non si sa bene chi dei due abbia cominciato con questo metodo catartico, comunque lasciamo perdere queste questioni interpretative e filologiche e andiamo avanti. Che cos'è l'isteria? Bene, sin dal V secolo a.C. nella medicina greca Ipocrate aveva definito questa malattia come una malattia tipicamente femminile tant'è vero che l'isteria deriva da istera che in greco significa utero erano degli spostamenti dell'utero delle malformazioni nell'utero che provocavano questa malattia. Ora, nella medicina positivista dell'Ottocento la prima metà dell'Ottocento diciamo si riteneva che una determinata patologia e quindi determinati sintomi come quelli che presentavano le pazienti isteriche dovessero necessariamente essere come per tutte le altre malattie il risultato di malformazioni o comunque di cause organiche fisiologiche alterazioni fisiologiche quindi anatomiche eccetera fu proprio nella seconda metà dell'Ottocento con gli studi di vari medici tra cui Charcot il famoso direttore della clinica della Salpetrie a Parigi un medico molto rinomato molto conosciuto tanto che Freud andò con una borsa di studio a studiare a Parigi proprio la Salpetrie che fu tra i primi a usare l'ipnosi per studiare le isteriche e ad avanzare la tesi che non si trattasse di disfunzioni fisiologiche ma che avesse una causa psicogena cioè che questi sintomi fossero dovuti a motivi psichici e quindi non a malformazioni o disfunzioni di tipo fisiologico qui vediamo alcune fotografie che illustrano le varie fasi di un attacco isterico erano migliaia le isteriche che Charcot prese in esame nella clinica di Salpetrie e abbiamo anche un'iconografia fotografica iconografi fotografi spero si pronunci perché Charcot documentava ha documentato con migliaia di fotografie questi attacchi e questi sintomi quindi non si trattava come perché nella medicina positivista come dicevo si riteneva che o ci fossero delle cause organiche a provocare una malattia oppure ci fosse simulazione siccome non si presentavano spesso cause organiche nell'organismo delle pazienti affette da isteria allora si pensava che esse simulassero e quindi Charcot è importante per questi motivi conobbe Freud avanzò l'ipotesi che non vi fossero cause organiche ma psicologiche e usò l'ipnosi ma chi era Berta Pappenen e che cosa l'ha condotta allo studio viennese di Breuer qui vedete un francobollo dedicato ad Anna infatti Anna poi divenne una sociologa impegnata nel sociale anche nella politica e nella cultura fu una giornalista fu una scrittrice e il suo attivismo era soprattutto dedicato alla difesa delle donne dei bambini fondò un'associazione di donne ebraiche si occupò di tratta delle bianche di prostituzione e di altri problemi sociali ecco perché le viene dedicato anche un francobollo quando viene sottoposto a trattamento dal dicembre dell'80 all'82 a quasi tutto l'82 aveva 21 anni all'inizio era a parte di una ricca famiglia della borghesia viennese e quello che accade è che il padre si amala a luglio lei lo deve assistere è questa la scena primaria che produce in lei un trauma iniziale seguito da tutta un'altra serie di eventi traumatici che porteranno a una determinata sintomatologia entra in cura da Breuer e Breuer è già in contatto con Freud proprio nell'80 si conoscono lo stesso anno in cui inizia il trattamento di Anna e insieme commentano e analizzano il caso di Anna così descrive Breuer la sua paziente una paziente dotata di una notevole intelligenza parlava 4-5 lingue molto acuta molto intuitiva capaci di ragionamento analogico o molto ricco dotata di fantasia di talento poetico spirito critico di ferrea volontà insomma ci dà un ritratto di un carattere molto forte di una persona molto colta come dicevo la diagnosi di Breuer è quella di isteria ecco qui ho cercato di raccogliere alcuni dati per comprendere bene la situazione che abbiamo di fronte questi sono alcuni dei sintomi che aveva Anna e che Anna manifestò nel corso della terapia perdita dell'appetito parafasia cioè mescolava l'ordine delle lettere nelle parole delle parole nelle frasi astenia tosse nervosa strabismo convergente come vedete di tutto sonolenza sonambulismo perdeva la sensibilità a tattile aveva dei disturbi alla vista delle paralisi delle allucinazioni idrofobia insomma di tutto non si fece mancare niente era un vero e proprio campionario dei tradizionali sintomi che venivano attribuiti alle pazienti isteriche anche la cronologia da tenere presente nell'80 come ha detto Freud e Breuer si conoscono nel luglio dell'80 comincia la malattia del padre di Anna che morirà nel dicembre dell'80 e tra luglio e dicembre abbiamo appunto il periodo di incubazione cioè abbiamo quegli eventi che poi porteranno a dei traumi che Anna rimuoverà e che si manifesteranno poi a livello conscio come dei sintomi la cura con Breuer inizia dicevo dall'80 fino all'82 e qualche anno dopo Freud è a Parigi da Charcot e studia le esperienze di Charcot finché nel 95 pubblicano gli studi sull'isteria quindi stiamo prendendo in esame un periodo che va dall'80 al 95 come arco temporale perché l'interpretazione dei sogni a questo punto interrompiamo un po' il discorso sull'isteria chi volesse approfondire l'interpretazione dei sogni può trovarla qui perché è un testo che viene da molti ritenuto come il primo vero e proprio studio che può essere definito psicoanalitico è un testo di Freud è un testo chiave perché il problema della psicoanalisi come vedremo poi è come conoscere il suo oggetto d'indagine nell'oggetto d'indagine della psicanalisi certo è la psiche umana ma è soprattutto l'inconscio e all'inconscio che ha regato il carattere rivoluzionario della psicoanalisi alla scoperta dell'inconscio e della sua funzione determinante nella vita psichica e nella vita più in generale dell'essere umano degli esseri umani il problema della psicoanalisi è proprio che l'inconscio essendo per definizione qualcosa che si sottrae alla consapevolezza non si vede come possa essere studiato ed ecco perché l'interpretazione dei sogni è un elemento chiave anche nella metodologia psicoanalitica perché come dice Freud i sogni sono la via regia i sogni sono la via regia cioè sono la via più importante la via principale che ci può permettere di conoscere l'inconscio il ruolo dell'inconscio nella nostra vita psichica ma che cosa sono i sogni i sogni sono appagamenti allucinatori cioè appagamenti ovviamente non reali perché sono puramente immaginari di desideri che noi rimuoviamo perché sono desideri che contrastano con la nostra educazione con i nostri principi che ci mettono in imbarazzo che sono per noi eccessivamente traumatici perché possono essere anche desideri proibiti che noi stessi consideriamo dei tabù e quindi li rimuoviamo non ne siamo consapevoli ma continuano a esistere a livello inconscio e riemergono durante il sogno perché riemergono durante il sogno perché l'attività di quel meccanismo che fuori chiama censura che appunto mira a reprimere quindi proprio a censurare a cancellare tutto ciò che per noi è improponibile inconcepibile è più debole nel corso del sonno e quindi durante il sogno abbiamo l'appagamento di questi desideri inconsci ecco perché interpretando i sogni possiamo risalire a quelle che lui chiamerà io qui ho usato l'espressione desideri ma l'espressione corretta è pulsioni che ci spingono a comportarci in un certo modo a mirare certamente e a dirigere la nostra energia psichica la nostra volontà verso certi oggetti quindi tutto il nostro comportamento cosciente è frutto di queste pulsioni quindi dicevo attraverso l'interpretazione analitica dei sogni noi possiamo arrivare a esplicitare quei contenuti inconsci che altrimenti non sono direttamente conoscibili ma vediamo adesso che cos'è esattamente la psicoanalisi psicoanalise bene possiamo dare tante definizioni della psicoanalisi come definizione di partenza diremmo che la psicoanalisi è in primo luogo una terapia cioè un metodo di cura che mira appunto a curare quindi una sorta di clinica le nevrosi e le malattie psichiche in genere quella che oggi si occupa di quello che oggi si chiama psicologia dinamica quindi prima di tutto una terapia medica poi anche un metodo di indagine è un metodo per indagare che cosa l'organizzazione la dinamica il funzionamento della psiche umana quindi è una teoria che mira a descrivere struttura e evoluzione della psiche umana ma la psicoanalisi come ha dimostrato poi nel corso del novecento la storia culturale e artistica è anche una nuova visione sull'uomo sulla sua natura e sul rapporto tra l'uomo e il contesto in cui l'uomo è collocato il contesto sociale e culturale in cui l'uomo vive tutte queste tre definizioni hanno un tratto in comune l'inconscio l'inconscio che è l'elemento chiave e il fondamento stesso della nostra vita psichica c'è una frase che mi piace molto di Freud e che esprime bene il carattere rivoluzionario della psicoanalisi ci fa anche capire che cosa intende Freud con l'inconscio ed è questa che ho riportato qui l'io non è padrone in casa sua la casa dell'io è la nostra psiche la nostra mente l'io non è padrone della mente umana perché esiste un'istanza molto più originaria molto più importante che determina tutti i nostri comportamenti ma non solo i nostri comportamenti i nostri atteggiamenti ma anche i nostri gusti i nostri sentimenti le nostre inibizioni i nostri desideri le nostre speranze e così via cioè la totalità della vista psichica è determinata sempre da elementi inconsci cioè da forze che sono dentro di noi ma non solo noi e determinano ciò che noi siamo per essere meno astratto facciamo un esempio pensiamo come diceva lo stesso Schopenhauer all'innamoramento e all'amore che cosa c'è di più intimo di più personale di questo di questo sentimento che cosa c'è di più importante secondo almeno molti di noi nella vita se non l'amore ebbene è proprio in questo che è un sentimento che ci pone di fronte alla più intima essenza del nostro essere noi non siamo padroni non siamo noi a decidere di chi ci innamoriamo non decidiamo noi in base a una serie di caratteristiche altezza peso simpatie antipatie altri tratti psichici o fisici di quale persona ci innamoreremo ecco oggi esco di casa e mi innamoro di una che è così così e cosa usciamo e ci innamoriamo no non lo decidiamo noi sono delle forze delle pulsioni che stanno dentro di noi e che determinano il nostro innamoramento e quindi come dicevo prima l'io non è in padrone in casa sua la controprova la possiamo avere tutti quanti molto semplicemente con la delusione d'amore quando siamo respinti o il rapporto d'amore si interrompe noi non vorremmo soffriamo ecco se dipendesse da noi se fosse frutto di una nostra libera e consapevole e razionale scelta l'essere innamorato e il non esserlo sarebbe come un interruttore basterebbe appunto decidere di non essere più innamorati di quella persona e non soffriremo più ma in realtà ovviamente non è così e questo vale per tutte le cose che hanno a che fare con i nostri gusti la nostra personalità eccetera quindi che cos'è il determinismo psichico è appunto quel rapporto di causa-effetto per cui la causa di tutti i nostri comportamenti atteggiamenti pensieri e sentimenti è sempre una causa inconscia e l'effetto sono appunto i nostri comportamenti questo è il determinismo psichico e quindi la totalità della vita psichica è determinata da funzioni da istanze inconsce in realtà è un po' più complicato di così ma schematicamente a livello introduttivo è questa la svolta la svolta freudiana è una vera e propria svolta perché naturalmente la tradizione culturale e filosofica era invece fondata su un'idea della razionalità dell'uomo dell'uomo padrone in casa propria ma veniamo al problema metodologico cui accennavamo prima se l'inconscio in quanto tale è ciò di cui non siamo consapevoli pur essendo l'inconscio qualcosa che sta dentro di noi come possiamo costruire una scienza e su questa una terapia o comunque una disciplina psicologica e su questa disciplina una terapia che sono centrate sull'inconscio è l'elemento fondamentale della psiche è fondamentale esplicitare le pulsioni di cui l'inconscio si impreva la pulsione amorosa cioè quella forza che ci spinge verso una certa persona per esempio ma essendo inconscio la pulsione è come possiamo conoscerla non possiamo averne conoscenza diretta come allora procedere come aggirare questo ostacolo è chiaro che questo è il problema principale bene nel caso di Anna O vedremo che si fa ricorso all'ipnosi nello stato ipnoide il soggetto allenta quello che è il meccanismo della resistenza che tende a impedire il riemergere per esempio di eventi traumatici che abbiamo rimosso e che così affiorano oppure la suggestione oppure il metodo delle libere associazioni il famoso lettino in cui il paziente si distende è il flusso di coscienza cioè deve dire tutto quello che gli viene in mente senza starci a pensare appunto il flusso di coscienza interiore oppure appunto il sogno oppure il lapso gli atti mancati cioè tutti quei movimenti o atti che compiamo i tic nervosi la cosiddetta paraprasia insomma tutti quegli atti che noi compiamo senza rendercene conto e che proprio per il fatto che avvengono senza che noi li controlliamo possono rappresentare dei sintomi di attività inconsce torniamo un attimo indietro e torniamo a questo io raffigurato con questa immagine di una testa di una mente fatta di tanti puzzle di tanti tessere di puzzle ebbene da Aristotele in poi anzi da Parmenide in poi in tutta la filosofia e la cultura dell'occidente è il paradigma la concezione dell'essenza razionale dell'uomo quella a dominare si pensi non so all'uomo come animale razionale nella filosofia greca zom logisticon appunto animal rationalis come lo definiva l'essenza dell'uomo Aristotele o si pensi non so anche alla filosofia moderna che nasce con Cartesio dove la ragione è ancora una volta la natura propria dell'uomo anzi l'unica certezza è che io penso dove io penso per Cartesio significa io sono ragione io sono sostanza pensante fino ad arrivare a Kant eccetera eccetera il panlogismo eghiliano tutto ciò che è reale e razionale quindi o all'uomo rilascimentale artefici di se stesso e padrone di se stesso ecco la razionalità era sempre stata vista come l'essenza dell'uomo è vero che accanto a questa tradizione se ne interessa sempre un'altra che per esempio nell'ottocento e primi dell'ottocento il romanticismo e quindi il sentimento le passioni la passione dominante eccetera o Schopenhauer e Nietzsche ma anche tanti altri avevano già sottolineato l'importanza di ciò di cui non siamo consapevoli anzi la volontà di vivere stessa di Schopenhauer la ville zum Leben è appunto in qualche modo una sorta di inconscio universale però ecco spetta a Freud il merito di aver completamente sconvolto quella che era la concezione dominante rifondando addirittura gli studi psicologici su una definizione usiamo questa espressione della natura umana basata sulla irrazionalità per chiarir meglio possiamo ricorrere a un esempio dello stesso Freud Freud dice nella storia della sua cultura l'uomo diremmo l'uomo europeo ha subito tre ferite al suo narcisismo ricordiamo che per narcisismo intendiamo il culto della propria persona in qualche modo cioè quell'atteggiamento per cui l'intera propria esistenza è centrata sulla propria personalità l'esaltazione della propria personalità quindi quando Freud parla di narcisismo umano vuol dire che la concezione dominante nella cultura europea è stata quella di considerare l'uomo al centro dell'universo e l'universo creato per l'uomo e in funzione dell'uomo insomma l'uomo è il signore del creato come nella tradizionale immagine religiosa della genesi Adamo è il re della natura e tutto esiste in funzione di Adamo ebbene questa concezione narcisistica antropocentrica potremmo dire è stata dice Freud attaccata e ferita e colpita per tre volte il primo è stato Copernico questo signore qua che con la rivoluzione copernicana siamo in 500 l'origine nella nascita nato iniziale per così dire della rivoluzione scientifica capovolge il rapporto tra la terra e il sole e quindi non è più la terra al centro di quello che allora era ritenuto l'universo cioè il sistema solare ma è appunto il sole l'uomo perde la sua posizione centrale l'uomo non è più signore del creato e al centro del creato sta in un pianeta che poi con l'evoluzione dell'astronomia si scoprirà essere uno dei tanti corpuscoli dell'universo la centralità spaziale dell'uomo non esiste più così come l'uomo non è più al centro dello spazio non è nemmeno più al centro del tempo con la teoria dell'evoluzione di Darwin e siamo quindi 1859 quindi 21 anni prima di Bertha e di Breuer Darwin che cosa fa? ecco con la sua teoria dell'evoluzione Darwin rompe anche un altro elemento fondamentale dell'arcisimo umano l'uomo non è più nemmeno il re di questo piccolo pianeta disperso nell'universo la natura umana non è una natura qualitativamente diversa da quella degli altri animali l'uomo è un animale come gli altri non è né inferiore né superiore dal punto di vista biologico o se è superiore ha comunque antenati in comune con quelli che sono i primati superiori come si dice un po' più volgarmente schematicamente l'uomo discende dalla scimmia cosa che in questi termini brutali Darwin non ha mai detto ma insomma era davvero un altro attacco che mirava a demolire il narcisimo dell'uomo e la terza finita al narcisimo umano dice Freud è quella che ho apportato io che diamo Freud il giovane Freud diciamo ed è appunto la rivoluzione psicoanalitica l'uomo che ha sempre posto nella razionalità e nel libero arbitrio da millenni la sua essenza ponendo il suo stesso agire come frutto di questi due elementi che si fondono in uno solo insomma il nostro libero arbitrio e la nostra capacità di scegliere in base a elementi unicamente razionali viene completamente spazzata via perché ciò che controlla il nostro comportamento non è la ragione ma è appunto l'inconscio ebbene con la psicoanalisi abbiamo quindi raggiunto la completa demolizione del narcisismo umano e abbiamo anche raggiunto la conclusione di questo primo video che è durato ben 27 minuti non so chi se lo ascolterà tutto e nel prossimo video nella prossima lezione parleremo invece di nuovo di Anna O e del metodo catartico vi ringrazio e buona giornata a tutti